Il sabato prossimo 19 alle ore 16 faremo in modo di garantire la presenza di un tecnico IREN perché ci dia delucidazioni e nel contempo il 19 organizziamo invitando anche i quartieri Mirafiori, Pantera che hanno del riscaldamento per organizzare la manifestazione del 5 Siamo tutti d'accordo? Allora appuntamento sabato prossimo metteremo davanti alla posta il centro commerciale dei volontari Non abbiamo tanti soldi